Diciannovesima domanda del Catechismo di San Pio X, Dio è uno solo? Risposta, Dio è uno solo, ma in tre persone uguali e distinte, che sono la Santissima Trinità. Vedete, questo è uno dei grandi misteri della nostra fede. Attenzione, mistero non significa enigma, qualcosa che non si possa conoscere. Il mistero della fede è qualche cosa che si può conoscere per via di esperienza, non tanto di intelletto, perché il nostro intelletto, guardate, ve lo dico subito, non c'è teologo che tenga, il mistero della Santissima Trinità non verrà mai svelato, ma una vecchietta, un bambinetto, lo può conoscere meglio del teologo. Come? Per via di esperienza, perché scopre che Dio è uno, perché Dio non può che essere uno, non ci possono essere tanti dei, questa è un'idea proprio volgarmente umana, bassamente umana, ma è trino, perché? Perché in Dio c'è la dimensione dell'amore e l'amore evidentemente è tra uno e l'altro, ma non solamente è tra uno e un altro, ma questo amore è sempre generativo, il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Il rapporto di amore tra il padre e il figlio, questo rapporto è persona dello Spirito Santo ed è una eterna processione interna. I teologi ne dicono tante, ma a noi non ci importa quello che dicono i teologi, ci importa che Dio è uno, ma Dio è amore e se è amore allora ci interessa, perché noi abbiamo bisogno di Dio, perché abbiamo bisogno di sentirci amati. E allora la domanda è questa, Dio è uno solo? Dio è uno solo, ma in tre persone uguali e distinte che sono la Santissima Trinità. Dio è uno solo, ma in tre persone uguali e distinte che sono la Santissima Trinità. Grazie a tutti